Allora, professore, questa sera a Libere si parla di comunità energetica. Che cos'è innanzitutto? La comunità energetica è la condivisione di produttori e consumatori di energia, che possono essere cittadini, imprese, antitocali, si mettono insieme, condividono la produzione di energia da fonte rinnovabile e consumo. E ci sono dei vantaggi di tre tipologie. Ci sono dei vantaggi economici, perché c'è la possibilità di ridurre la propria bolletta e di avere delle incentivazioni sia per l'installazione di impianti fotovoltaici che per la corrente e l'energia che noi riusciamo a condividere. C'è un vantaggio ambientale, perché ovviamente produrremo energia da fonti rinnovabili e quindi diamo un grosso contributo al problema, dei problemi che abbiamo in questo momento, che sono i cambiamenti globali del clima. E tre, c'è un vantaggio sociale, perché con la comunità energetica si fa comunità, cioè si mettono assieme le esigenze, si creano le condizioni perché c'è condivisione e quindi anche chi è più povero dal punto di vista economico può avere dei vantaggi dal mettersi assieme, perché le incintivazioni premenono proprio questa tipologia di comunità. Perché l'università in questo progetto? Perché l'università è a fianco del territorio. Noi come Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali dell'Università della Campania, e qui voglio ringraziare anche il Sindaco e il Comune di Liberi, che ha voluto questa iniziativa, stiamo collaborando proprio per la diffusione di queste iniziative, che sono iniziative che col territorio si sposano e quindi le conoscenze e le competenze che abbiamo a livello universitario devono essere condivise con il territorio e quindi insieme costruiamo l'innovazione, costruiamo il futuro dei nostri ragazzi, grazie a iniziative che possono sul territorio riuscire a portare fonti energetiche rinnovabili, energia condivisa e vantaggi ambientali, economici e sociali.